La notizia della nascita della prima figlia di Logan Paul e Nina Agdal ha catturato l'attenzione dei fan e dei media. Con un tocco di magia e affetto, la coppia ha condiviso sui social la gioia di diventare genitori. Questo evento segna un capitolo importante nella vita personale del noto youtuber ed ex pugile, che sta vivendo un momento di grande felicità. La piccola si chiama ESM e accento acuto, e il suo arrivo è stato annunciato con uno scatto dolce e familiari, unici e indimenticabili. Un annuncio emozionante sui social media, il post di Logan Paul su Instagram. Il 29 settembre 2023, Logan Paul ha fatto un annuncio che ha scosso i suoi milioni di follower su Instagram. Con un post ricco di emozioni, l'ex pugile ha fatto sapere al mondo intero che la sua prima figlia è finalmente arrivata. ESM e accento acuto Agdal Paul è entrata in chat, è la frase che ha dato il benvenuto alla piccola, sottolineando la gioia che la coppia prova nel condividere questo momento. Il post includeva fotografie affettuose che mostrano la famiglia riunita, con Nina ancora in ospedale, dando un'immagine di intimità e felicità condivisa. Un video emozionante mostrava anche la neo-mamma che tiene ESM e accento acuto sul petto, rivelando al pubblico il volto della loro bambina per la prima volta. La gravidanza e la vita familiare in crescita. La gravidanza di Nina Agdal era stata annunciata precedentemente ad aprile 2023, generando una reazione calorosa tra i fan della coppia. La notizia aveva suscitato grande entusiasmo, preparando il terreno per il successivo annuncio della nascita. Logan e Nina, entrambi figure pubbliche molto seguite, si sono dimostrati pronti a condividere la loro esperienza di genitorialità, avvicinando ulteriormente i loro fan alla loro vita privata. Questa nascita rappresenta non solo l'arrivo della piccola ESM e accento acuto, ma anche una nuova fase nella relazione tra Logan e Nina, che si sta evolvendo con grande promessa e amore. La storia d'amore di Logan e Nina, dall'incontro iniziale alla proposta di matrimonio. Logan Paul e Nina Agdal si sono incontrati per la prima volta a un evento a New York City, e da lì è iniziata una storia d'amore che ha catturato l'interesse del pubblico. Nina ha raccontato a un noto magazine di moda quanto sia stato istintivo il suo desiderio di avvicinarsi a Logan in quell'occasione. La loro relazione è stata ufficializzata non molto tempo dopo, quando la coppia ha iniziato a pubblicare scatti romantici sui social, alimentando il desiderio dei fan di conoscere ogni dettaglio della loro vita insieme. A maggio dello scorso anno, Logan ha celebrato il primo anniversario della loro relazione pubblicando un'immagine significativa sui social, accompagnata da una dedica affettuosa per la sua compagna. Un anno molto speciale con la mia regina danese, un chiaro segno dell'amore e della stima che nutre per Nina. La fidanzata ha 29 anni, ed è una fitness and health coach. Grazie al suo carisma e alla sua presenza sui social media, Nina ha accumulato quasi 2 milioni di follower, diventando un punto di riferimento nel settore. La proposta sul lago di Como. Un altro momento significativo nella loro storia, è arrivato nello scorso luglio 2023 quando Logan ha fatto una proposta di matrimonio incantevole a Nina sul lago di Como. Questo gesto romantico, in una delle località più belle e suggestive d'Italia, ha segnato un traguardo importante per la coppia. Al momento la cerimonia non è ancora stata celebrata, ma i fan aspettano con trepidazione ulteriori aggiornamenti. La crescente famiglia di Logan e Nina continuerà a seguire con interesse e affetto le prossime tappe della loro vita, così come molti hanno fatto fino ad ora.